ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video allora le prime impressioni su la patch 1.5 appena rilasciata allora io intanto vi ringrazio tutti quanti per aver seguito la live per avermi dato dei suggerimenti sulle combo da provare ringrazio tutti quelli che sono intervenuti con dei commenti in cui mi facevano notare Fabri stai dicendo una cagata oppure perché hai dei giudizi troppo affrettati vi ringrazio a tutti per i complimenti perché mi fa veramente molto piacere e soprattutto chi effettua delle critiche costruttive veramente qualcosa che è importante per me perché mi dà modo intanto di analizzare di farmi le domande giuste e poter crescere allora ragazzi dare le prime impressioni su l'automobilista 2 e la patch 1.5 migliorata rispetto alla 1.4.8 vi dico subito sì è migliorata ok ci sono veramente delle basi gettate da Reiza con dei miglioramenti pazzeschi il problema sta ma su che cosa lo misuriamo che è migliorato o meno è perché questa è anche una delle cose che viene detto viene detta da alcuni di voi nei commenti è che come dare torto cioè come facciamo noi a dire che l'automobilista 2 è migliorato rispetto a prima se noi non possiamo provare tutte le macchine qua parte adesso un discorso filosofico che non finisce mai allora siccome la verità secondo me sta in mezzo parlerò unicamente delle mie sensazioni e delle mie attese così non ci perdiamo in discorsi allora io vi dico che questa patch 1.5 mi soddisfa non pienamente perché ci sono dei comportamenti di alcune auto che non mi piacciono ok che non sono nelle mie aspettative per il momento in particolare c'è un comportamento un qualcosa che succede con le GT3 in cui pur avendo disattivato tutti gli aiuti c'è come una mano divina che corregge costantemente la traiettoria della macchina per evitare di avere ad esempio del sovrasterzo o anche del sottosterzo una sorta di mano che controlla non un perno che è completamente diverso proprio un qualcosa che corregge come un aiuto fantasma che è presente lì che non si può disattivare e questo la trovo una cosa particolarmente fastidiosa ma al di là di questo il comportamento in generale delle GT3 mi piace da morire la AMG GT3 e la 720 sono pazzesche sound, dettaglio grafico, comportamento in generale fantastiche in altre non succede e diciamo che sono più convincenti per me ad esempio la DPI o DPI chiamatela come volete la Cadillac mamma mia sono rimasto muto per 15 minuti io che sto muto ragazzi vuol dire che è impressionante a spa mi sono fatto due giri ed ero lì mamma fantastica addirittura ho anche esortito dicendo ragazzi se mi chiedete di fare un campionato con questa la facciamo subito quindi mi ha impressionato positivamente anche la Metal Moro che mi è stata suggerita mamma mia stratosferica Kerez è stata una coturia pazzesca poi prendi delle auto che magari non ho l'abitudine di guidare e magari l'impressione non è quella che mi aspetto ad esempio la MP4 proprio in questo momento guarda il caso non mi ha impressionato e mi ha dato una sensazione di rimbalzo cioè sentivo che ero su quattro gomme quello sì però come suggeriva qualcuno in live è quello che penso anch'io questa macchina qua si dovrebbe forse avere la sensazione di avere un martello pleomatico sotto il sedere ecco ma sono tutte impressioni perché non ho la possibilità e non avrò mai la fortuna penso di poter provare una McLaren MP4 6 a Imola nel 1988 quindi non potrò dire però questa sensazione qua probabilmente è che mi aspettavo qualcosa di più rozzo più ma chi mi dice che non è un problema anche di settaggio del mio volante ecco però in generale devo dire che è stato fatto un lavoro stratosferico secondo me al di là di quelle correzioni che secondo me devono essere fatte soprattutto sull'Egt3 devo dire che l'impressione generale è veramente molto positiva ho apprezzato tantissimo il discorso delle gomme della termodinamica del consumo che si sente alla guida perché voi vedete un terzo di quello che vedo perché dovete considerare che qui c'è un triple screen durante la live quindi c'è tutto l'HUD e quindi si vede mano a mano che scalano le gomme si sente anche a livello di comportamento l'auto cambia dinamicamente il suo comportamento è molto sensibile anche al cambiamento del ovviamente del meteo infatti il live track è stato anche aggiornato e quindi adesso si comporta in modo diverso e soprattutto adesso si va sulle uova quando si va sul bagnato poi ragazzi cosa dirvi altro il sound è sempre pazzesco la fisica quindi migliorata hanno aumentato diciamo il livello del force feedback e io l'ho utilizzato con un setting che mi ha passato un amico mio personalizzato custom e mi piace da morire e in più ragazzi adrenalinpacker con 7-8 macchine in più che introduce questa nuova modalità rallycross che non c'entra niente con project cars 2 ve lo garantisco ogni macchina si comporta in modo diverso con ancora 10 circuiti 10 layout disponibili oltre ai 50 che erano già presenti ragazzi non secondo me è fantastica questa cosa qua e in più aspettate mi pare che abbiano messo altre due macchine gratuite gratuite cioè non solo metto un dlc ma in più chi non se lo compra ti regalo comunque due macchine in più non è poco ragazzi è stato veramente una patch bellissima un dlc veramente molto figo devo dire la verità quindi le mie impressioni sono positive soprattutto perché comunque questa sensazione di connessione con la macchina c'è va verificato a questo punto che la dinamica della deformazione delle carcasse dei pneumatici la gestione delle temperature quindi la termodinamica le sospensioni molle e chassis che lavorano insieme va verificato intanto la gestione della gara in termini di comportamento dell'auto ma soprattutto anche il setup come va a incidere sulla macchina questo sarà veramente molto interessante fare come approfondimento quindi io rinnovo i ringraziamenti ragazzi per essere intervenuti in questa live penso di aver parlato un po' di tutto e penso che abbiate capito che comunque è un qualcosa di molto positivo per quanto mi riguarda questa patch 1.5 grazie infinite a tutti voi per i commenti che mi lasciate quindi continuate a commentare ragazzi lasciate un pollice in su se questo video vi è piaciuto noi ci vediamo prestissimo perché ancora ci sono tante ore da fare su Automobilista 2 da Fabrice è tutto un abbraccio ciao